Salve a tutti, benvenuti al nostro terzo episodio di Un tuffo nel verde dedicato all'ecologia. Oggi parleremo di mobilità privata, quindi non parleremo di mezzi pubblici ma dei vari modi per spostarci in modo privato e autonomo. I punti che vogliamo approfondire oggi fra le varie possibili scelte di mobilità privata sono la spesa, i tempi impiegati e le calorie consumate. Questo perché lo vorrei dedicare a delle persone medie che fanno degli spostamenti quotidiani che ho calcolato intorno ai 15 km al giorno, quindi non stiamo parlando di persone che devono prendere l'autostrada per fare 100 km all'andata, 100 km al ritorno. persone che mediamente poi, oltre al loro spostamento, per fare un po' di movimento vanno a fare una passeggiata oppure di solito si iscrivono in palestra perché la sera è buio e quando tornano da lavoro non hanno modo di fare la passeggiata o abitano nei luoghi affollati. Allora iniziamo da considerare la spesa possibile. Consideriamo la spesa di una persona che compie questi 15 km al giorno e si iscrive in palestra. Ho calcolato, usando dei riferimenti presi semplicemente da Google, che la spesa media annua di un'automobile abbastanza nuova per percorrere questi chilometri è di circa 700 euro l'anno. A questi per tenere l'auto dobbiamo aggiungere il bollo auto, l'assicurazione per forza, l'iscrizione in palestra, se economica, sono una cinquantina di euro al mese, quindi intorno ai 500 euro l'anno escludendo i mesi estivi, la manutenzione dell'auto che può essere molto variabile e più i parcheggi, perché ogni volta che arriviamo in luogo dobbiamo parcheggiare. Quindi ho calcolato che più o meno si tratta di una spesa di 3.000 euro all'anno. Mi sono tenuta abbastanza a basso con i costi. Se in alternativa a auto più palestra consideriamo di spostarci con la bicicletta, ovviamente abbiamo soltanto la spesa iniziale dell'acquisto della bicicletta, e intorno ai 100-150 euro medio all'anno per la manutenzione della bicicletta. Se è elettrica più o meno questa spesa, se non è elettrica molto molto meno, possiamo limitarci a cambiare le camere d'aria, un po' di lubrificante e via. Se invece andiamo a piedi, basta comprare un paio di scarpe in più all'anno, quindi con gli 80 euro annui abbiamo soddisfatto la spesa. Consideriamo la differenza di tempo, perché molti dicono io non posso muovermi con un mezzo diverso dall'auto perché ho fretta. E quindi ho calcolato anche più o meno i tempi. Allora, se stiamo parlando di spostamenti in città, diciamo che questi tempi sono indefiniti, perché se lo spostamento riguarda prendere la tangenziale e uscire magari in una città come Napoli, se non ci muoviamo a ora di punta, allora possiamo essere anche abbastanza veloci. Però se ci stiamo muovendo all'ora di punta, ho dovuto scrivere, o ci stupiamo proprio in centro città, questi tempi sono indefiniti, perché sappiamo quando usciamo, non sappiamo quando arriviamo a destinazione. Ho fatto il calcolo più o meno a Ischia, dove non c'è tanto traffico, mediamente in 30 minuti riusciamo a percorrere i 15 chilometri. Ovviamente a questi 30 minuti va aggiunto il tempo del parcheggio, che a seconda del luogo in cui ci troviamo può essere di un minuto, due minuti, cinque minuti, ma quando vivevo a Napoli mi capitava per parcheggiare a ritorno la sera anche di girare per un'altra mezz'ora. E quindi si aggiunge agli indefiniti. A questi tempi, se siamo quella persona normale che poi per fare un po' di movimento va a fare la passeggiata oppure si scrive in palestra, aggiungiamo un'ora per fare questa attività, almeno più il tempo dello spogliatoio per spogliarci, per arrivarci ai chilometri aggiuntivi per arrivarci eventualmente, se abbiamo deciso di spostarci con l'auto. Vediamo poi i tempi che impieghiamo invece per spostarci in bici. Se è elettrica e la tiriamo al massimo, la velocità massima consentita per legge è 25 km orari, quindi diciamo che rispettiamo perfettamente la legge, non superiamo questo limite di velocità. Per percorrere quei 15 chilometri ci mettiamo 36 minuti. Quindi a Ischia ho guadagnato solo 6 minuti andando in auto e non devo parcheggiare o quantomeno è molto semplice parcheggiare perché posso arrivare dove mi trovo e la leggo lì dove mi trovo. Se la bici non è elettrica dipende un pochino dallo stato di allenamento di ognuno di noi, quindi diciamo che se stiamo fra i 15 e i 20 km orari, i 15 km orari li riusciamo a tenere anche in un'isola con saliscendi come Ischia, perché c'è la salita però poi c'è anche la discesa, quindi un pochino di velocità la riguadagniamo, rimaniamo comunque sotto l'ora, ok? Un'ora se andiamo al minimo 15 km orari, ma vi garantisco se ci provate che ci riuscite veramente tutti. E quindi un po' di più, il tempo del parcheggio ovviamente anche quello stesso di quello della bici elettrica, quasi nullo. Vediamo anche l'opposizione di andare a piedi, se andiamo a piedi a passo abbastanza sostenuto riusciamo a tenere una velocità di 5 km orari e quindi in due ore e mezza abbiamo fatto lo stesso spostamento. Ovviamente qui ci abbiamo messo effettivamente parecchio più tempo, però due ore e mezza nell'arco di una giornata in cui togliamo l'ora della palestra, il tempo di andare in palestra, il tempo della doccia dalla palestra, praticamente abbiamo perso un'oretta in più. Chilocalorie consumate? Ho voluto aggiungere anche questo, perché poi spesso molti di noi vanno in auto, oddio sto male perché non ho mai il tempo di fare la ginnastica e sono ingrassato e ho la cellulite e quindi vediamo se invece di usare l'auto scegliamo un altro mezzo, se riesco a consumare anche un po' di calorie e quindi magari ad avere un altro vantaggio. In auto ovviamente 0 kcal aggiunte in più perché siamo fermi seduti, quindi abbiamo soltanto il metabolismo basale, se dopo andiamo in palestra, facciamo la passeggiata, possiamo aggiungere questi 200 kcal medie che si consumano in palestra. Ovviamente ho considerato un allenamento medio di palestra fatto con i pesi, quello che si fa, se ci si vuole muovere un po', ovviamente poi ci sono sport che ci permettono di consumare di più. Se usiamo la bici invece dell'auto e non andiamo in palestra, se la bici è elettrica, abbiamo lo stesso consumo calorico della palestra, quindi possiamo togliere la palestra, comprare una bici elettrica e usare la bici elettrica, abbiamo consumato le stesse calorie, se scegliamo di usare una bici non elettrica, il consumo raddoppia. I numeri li ho presi su un uomo medio di 60 kg circa, per fare questo stesso spostamento, ovviamente dipende dal peso della persona, dallo stato di allenamento, dalla velocità che tengo, eccetera, eccetera. Quindi questi sono valori medi. Se andiamo a piedi, più o meno il consumo è di 1200 kcal, per fare questo stesso tragitto, quindi molto molto di più, addirittura posso scegliere di andare a piedi, invece di andare a fare una bella corsa. Dette tutte queste opzioni, queste differenze, non voglio fare particolari commenti, ma la mia esperienza ve la voglio raccontare. Io ho avuto, anche in questo caso, tutte le fasi. Quando ho iniziato a guidare, vivevo a Napoli, facevo la maggior parte delle cose con l'auto, e poi mi ritagliavo due ore al giorno, un'ora la mattina, un'ora il pomeriggio, un'ora la sera, per andare a fare i miei allenamenti. Avevo effettivamente questa spesa alta, intorno ai 3000 euro all'anno. Questo lo posso confermare. A un certo punto ho imparato ad andare in bici, perché non ci sapevo andare, i spostamenti che facevo non erano comodi da fare a piedi, perché si passava per delle statali, eccetera. Quando ho imparato ad andare in bici, all'epoca ero giovane, quindi ho scelto di usare una bici non elettrica, e vi posso confermare che i tempi sono rimasti gli stessi, quindi non perdevo più tempo, effettivamente andando in bici facevo anche più presto a fare le cose rispetto a quando andavo in auto, e riuscivo ad abbinare uno degli allenamenti nello spostamento, quindi in realtà guadagnavo un'ora, perché un allenamento lo dolievo, perché usavo l'ora di bici come allenamento, nello spostamento. Quando poi ho potuto scegliere di andare a piedi, perché magari i miei spostamenti sono stati in città, e non più fuori città, ho scelto di spostarmi a piedi, e vi garantisco che un'ora di passeggiata la mattina e un'ora di passeggiata la sera sono molto 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 piacevoli, e fanno bene alla salute, e tornate a casa molto più rilassati, e soprattutto quando arrivate in ufficio e vi dovete sedere, non state lì a morire dalla voglia di alzarvi, perché siete appena scesi dall'auto, dal traffico, eccetera, ma siete piacevolmente stanchi, e vi sedete e lavorate con piacere. Quando sono invecchiata ho avuto modo di usare la bici elettrica, e ho trovato che è molto comoda, perché riesco a fare gli stessi spostamenti che facevo prima, magari sudando un po', senza sudare, e quindi senza dovermi portare alla maglietta di ricambio, quando arrivavo sul posto di lavoro. Quindi il vantaggio della bici elettrica, principalmente, è quello che non vi fa sudare, rispetto agli altri tipi di spostamenti a piedi. Quindi a voi la scelta. Esistono questi modi alternativi per spostarci, sappiate che se usate la bici o usate i piedi rispetto all'auto, non state producendo anidite carbonica, quindi non state avendo un impatto negativo sull'ambiente. Quindi voi, il vostro corpo, i vostri figli, i vostri nipoti ne beneficeranno. A presto! Ricordate di iscrivervi al canale, ricordate di cliccare sul campanellino, mettetevi piace al video se vi è piaciuto, scrivete dei commenti, e se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche su Instagram e Facebook. A presto! Ciao!